Come avevamo rilevato anche in discussione generale arriviamo oggi a votare questo provvedimento con un percorso anche un po' burascoso visto le ultime votazioni di fronte per risolvere un problema assolutamente grave come avevamo rilevato si sta parlando che nell'arco di 4 anni, dati che risultano dall'ISTAT quindi fra 2008 e 2012 ci sono stati 1.000 morti, 35.000 feriti in conseguenza di sinistri causati da persone in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti L'esame di questo provvedimento in realtà è cominciato l'anno scorso in Commissione Giustizia si sono già sentiti in serie di audizioni anche varie figure quindi stiamo parlando di un anno per arrivare oggi a questo provvedimento che temo, visto l'esito delle votazioni che sono state fatte negli ultimi emendamenti che sarà sicuramente modificato dalla Camera è un ritardo che non dà una risposta a tutti quei cittadini, a tutte quelle persone offese a tutti quei familiari che hanno visto morire un loro congiunto, un loro amico una persona loro cara in una strada magari a causa proprio di una condotta assolutamente vile e vergognosa di chi appunto si mette alla guida in stato di ebrezza noi approviamo e condividiamo in questo disegno di legge sicuramente la previsione delle pene accessorie noi come gruppo della Lega Nord abbiamo sostenuto infatti in particolare questa figura, visto che se ne è parlato molto dell'ergastolo della patente è magari un modo un po' volgare di parlare di un istituto invece che vuole essere molto serio il disegno di legge ha previsto attualmente la revoca della patente in casi più gravi e la possibilità di rifarla a seconda appunto della casistica dopo 15, dopo 20, dopo 30 anni noi invece siamo dell'idea che chi causa la morte di una persona quando ha deciso lui consapevolmente di mettersi alla guida ubriaco o drogato noi riteniamo che quella patente quella persona non la doveva vedere mai più ma non è per sottolineare l'aspetto punitivo è di cercare di sottolineare invece la deterrenza perché solo nel momento in cui si vede e si ha la certezza che venga applicata una pena così severa come quella della reclusione e quella della pena accessoria della revoca della patente con l'impossibilità di rifarla si pensa che almeno così chi ha la possibilità di scegliere se salire in macchina ubriaco o salire in macchina a sobrio magari deciderà a quel punto nel primo caso di lasciare la guida ad altri bene anche l'aggravamento della pena noi avevamo tra l'altro un disegno di legge a firma del senatore Stucchi che aveva già previsto da tempo, perché questo disegno di legge non è mica così recente che aveva previsto proprio l'aggravamento di pena proprio nel caso di omicidio stradale nel caso di chi si è posto alla guida in stato di ebrezza però a noi per certi verti sorprende l'incoerenza di questa maggioranza e di questo governo visto che in un caso come questo probabilmente su un'onda sicuramente emotiva di varie associazioni, di varie cose che spingono affinché venga approvato questo omicidio stradale ha previsto questo inasprimento di pene è stato sollevato da molti colleghi anche una certa discrasia del sistema prevedendo queste pene per tali uni considerate quasi esagerate però noi riteniamo che questa incoerenza ci sia stata da parte della maggioranza del governo perché noi attualmente prevediamo questo inasprimento di pene però allo stesso tempo questo governo, questa maggioranza negli ultimi due anni ha varato una serie di svuotacarceri una serie di provvedimenti che prevedono liberazione anticipata che prevedono la non punibilità che prevedono tutta una serie di benefici al punto che si è avuto un svuotamento vero e proprio delle carceri con una riduzione decisa delle persone recluse quindi non si riesce a comprendere questo governo, questa maggioranza vuole il rigore, l'applicazione seria della pena l'inasprimento, un particolare rigore sociale un particolare rigore nell'ambito del diritto penale il diritto procedura penale oppure lo facciamo solo perché in questo momento si vuole dare un po' la sensazione magari questi nostri poveri cittadini di avere magari chissà, ecco, questo governo pensa anche a noi ma un'incoerenza tra l'altro senza arrivare a questo punto che si rivela anche in fase di votazione adesso, in base proprio alle votazioni degli ultimi amendamenti che sono stati approvati sono stati eliminati dalla previsione dell'omicidio stradale alcune ipotesi ma guarda caso che queste ipotesi tipo passaggio col semaforo col rosso l'intersezione stradale il contromano queste qua esistono ancora mentre per quanto riguarda le lesioni stradali io mi chiedo a questo punto quando si vota si sta ragionando su cosa si sta votando o stiamo andando avanti un po' perdonatemi l'espressione forse un po' a caso speriamo che questa incoerenza sia superata dalla Camera e che la Camera a questo punto ci metta le mani anche se dispiace anche dirlo più di una volta noi del Senato abbiamo dovuto riparare a dei danni che sono stati fatti di là probabilmente adesso la Camera ci sostituirà in questa veste di di censori e riparatori e che lo provveda il sistema però in ultima noi vogliamo dire che nonostante delle anche delle perplessità sulla struttura di questo provvedimento noi come gruppo della Lega Nord lo voteremo a favore pur rilevando che come già accade anche parlando in altri provvedimenti che non basta solo inasprire la pena non basta solo dare la magari il nostro Presidente consigli uscirà con l'ennesima slide con l'ennesimo tweet direi adesso noi abbiamo risolto il problema dell'omicidio stradale ricordiamoci che l'omicidio stradale già esiste nel nostro ordinamento quindi non è che sia un'invenzione non è un'invenzione di questo già esiste attualmente vengono previsti sicuramente un inaspiramento delle pene però accanto a questa attività giusta che noi condividiamo deve essere programmato e approfondito e migliorato sicuramente tutto quello che è un sistema che noi diciamo di cultura di criminalità stradale dobbiamo lavorare sicuramente sul tema della prevenzione la prevenzione avviene attraverso l'educazione sicuramente al rispetto delle regole al rispetto del codice della strada alla consapevolezza di cosa voglia dire bere le conseguenze del bere ma che vengano anche aiutate che vengano fornite anche ovviamente di risorse anche le forze dell'ordine affinché provvedano a fare i controlli questo significa avere dei uomini e mezze strumenti ovviamente per fare i vari alcool test le varie verifiche e quant'altro e poi si auspica anche una maggiore un'assunzione proprio di una maggiore responsabilità da parte anche di tutti gli operatori del diritto quindi si va ovviamente dalla polizia alla magistratura che nel momento in cui si troveranno ad applicare la norma come si ricordava prima la norma già esiste però probabilmente non è stata applicata magari nel senso più rigoroso del termine noi auspichiamo che la norma adesso così come strutturata come spero sarà migliorata e sistemata dalla Camera si possa poi applicarla effettivamente perché noi quando vediamo quelli che dicono ma siamo qua ad aumentare le pene e probabilmente creando anche delle discrese di sistema e siamo consapevoli che probabilmente delle pene feroci che nessuno applica sono inutili occorre sicuramente delle pene applicate quello che noi diciamo è che deve esistere la certezza della pena deve essere che la persona che commette un fatto deve sapere esattamente cosa gli succederà è un sistema che purtroppo negli ultimi due anni nella procedura penale il diritto penale come è stato varato da quest'aula a questa maggioranza a questo governo è andato proprio in contraria in contraria direzione quello che noi teniamo della Lega Nord vogliamo poche cose diciamo semplicemente rigore un rigore estremo un rigore serio perché siamo in un momento storico anche difficile dove il rispetto della legge il rispetto della società civile il rispetto delle altre persone deve superare tutto il resto perché è la base della nostra società rispetto della pena e certezza della pena per questa ragione noi comunque voteremo a favore del provvedimento come ho detto con le dovute perplessità grazie grazie a tutti